Hanno cantato, ballato, suonato, recitato, ma soprattutto sono divenuti parte di una comunità, quella che a volte è lontana per chi vive un handicap fisico-mentale. Sono gli ospiti di centri riabilitativi folignati, protagonisti di Jets Community, la sezione sociale del Festival Young Jets Countdown, che da tre anni dedica spazio con laboratori di musica e teatro a soggetti diversamente abili o con disagio mentale. Ad introdurre il seminario, che aveva come fine quello di presentare i lavori realizzati in questo 2013, Mario Gammarota, presidente di Young Jets, che nel ringraziare il comune di Foligno, presente con il sindaco Mismetti, per la sua disponibilità, non ha mancato invece di bacchettare provincia e regione. Enti ha detto, sempre più distanti da noi, sia fisicamente che come sostegno concreto. Per la cronaca quest'anno il contributo della provincia è stato di 600 euro e quello della regione, da 18.000 è sceso a 4. Nel corso del pomeriggio alla sala Fittaioli del Palazzo Comunale sono stati presentati singoli laboratori, partendo da Liber Orchestra, il complesso musicale che si è esibito all'Auditorium San Domenico lo scorso 22 maggio, con sul palco gli ospiti del centro riabilitativo di Prato Smeraldo. Accanto a questo, sulla stessa linea, il laboratorio jazzisti e Spring Jets, dove in quest'ultimo caso la musica ha accompagnato l'incontro e integrazione tra i bambini italiani con quelli stranieri. La compagnia tetrale, la società dello spettacolo, ha portato in scena invece persone con disabilità psichica, abbattendo, ha spiegato una delle operatrici partecipanti al progetto, le distanze nell'approccio con la malattia mentale. Commovente la testimonianza di una mamma, Rossa Bisogni, che ha spronato le istituzioni a continuare nel sostegno al Young Jets. Tanti nomi di professionisti che hanno collaborato ai laboratori, tra questi il musicista Dan Kinzelman e Giovanni Guidi per un progetto, quello di Jets Community, che ha dato appuntamento al 2014.